Beppe Cormio un 3 a 0 contro Latina che riscatta in parte la figuraccia di Milano insomma queste riscattare con la serata ne voglio 7 8 di 3 a 0 consecutivi perché quella è stato un pugno nello stomaco e l'abbiamo vissuta male durante e anche dopo però comunque perlomeno diciamo che oggi ma nella fase iniziale si è notato ancora tanto nervosismo ci siamo poi sbloccati abbiamo lasciato andare il braccio ma soprattutto la testa io credo perché in allenamento raccontava al patron Giulianelli ieri si è vista una formazione straordinaria un allenamento 6 contro 6 che valeva veramente il prezzo di un biglietto poi quando andiamo in campo con l'avversario arrivano ancora i fantasmi le paure e quelle situazioni che non ci fanno giocare in scioltezza comunque qualcosa si è visto di buono mi sembra che qualche giocatore sia espresso ad alto livello bene balaso con le sue difese bene bruno nella distribuzione anche un qualche palla da applauso quindi cominciamo cominciamo a così a scrollarci di dosso un nervosismo e che comunque sia chiaro non era assolutamente responsabilità del nostro mister medei che è una grande persona quando finirà il silenzio stampa questa è l'ultima volta abbiamo tenuto fino a stasera questa questo concetto ma non e ve lo dice uno che è iscritto all'ordine dei giornalisti dal 1980 non per così andare contro quello che è il lavoro al quale teniamo tantissimo dei giornali delle radio delle televisioni ma solo perché abbiamo chiuso la porta dello spogliatoio abbiamo detto da qua adesso dobbiamo veramente uscire solo quando siamo un po più liberi mi sembra che siamo un po più liberi quindi liberiamo anche la voce dei giocatori oltre al braccio e alla mente la voce dei tifosi non è mancata nemmeno questa sera no bravissimi ma io ho già chiesto scusa perché io non so prima ancora di immaginare le conseguenze di quella partita immaginavo la il clima nei pullman e le macchine di ritorno di di queste persone che ci vogliono bene ci hanno seguito fino a milano e hanno fatto il tifo fino all'ultimo punto quindi stasera hanno continuato ad avere quell'atteggiamento positivo sono straordinari gli voglio bene soprattutto ora si volta definitivamente pagina arriva fede giorgi che chiediamo anche a te una veloce presentazione forse lo conosci ma diciamo che dobbiamo ancora aspettare la situazione la situazione incastro tra varie società che che cambiano diciamo guida e chiaramente la l'abbiamo dato noi chiaramente la società dello giascembie dove da due anni di giorgi allena dobbiamo ringraziarla perché è stata sensibile alle nostre richieste annunceranno domani il sostituto che è un altro grande grandissimo allenatore quindi si sono comunque coperti bene verrà a fefe si abbiamo iniziato io l'ho avuto da giocatore da capitano in diverse esperienze a cominciare da padova nel 1990 quindi è un rapporto che dura da tantissimi anni che poi è proseguito a cuneo dove abbiamo vinto tanto insieme e non so perché ma so che sarà un una persona giusta perché è una persona equilibrata al tempo stesso abbastanza dura e ferma nello spogliatoio però con un carattere e una capacità comunicativa straordinaria abbiamo anche fatto due anni di una trasmissione televisiva nel in una grande emittente del nord est e quindi siamo diciamo siamo affiatati e mi fa mi farà piacere rivederlo